TG Web di Città di Ariano, nuova edizione, 3 dicembre 2020. Valentina Ciccarelli studio, ben ritrovati. Cominciamo dalla politica. Ariano Luparella, sull'ospedale permangono le preoccupazioni. Non si comprende quali siano le rassicurazioni della dirigenza ASL che rendono così soddisfatto il nostro sindaco, nonostante il Consiglio Comunale sia stato certamente un fatto positivo per l'unità raggiunta sulla questione dell'emergenza sanitaria. Però non c'è stata una risposta sul perché il nostro ospedale abbia ricevuto con il Covid un fardello così pesante, nonostante le direttive regionali non lo prevedessero. Queste le parole di Marcello Luparella, consigliere di opposizione alla luce di una dichiarazione nella quale il sindaco Franza si è detto soddisfatto per le risultanze del Consiglio. Da quanto riferito dal direttore generale, ha continuato Luparella, è emerso un quadro tutt'altro che rassicurante. C'è l'impossibilità di riaprire nell'immediato la medicina ordinaria e la terapia intensiva, così come di separare in modo netto i percorsi Covid e no Covid. Ci è stato confermato che alla fine dell'emergenza il nostro ospedale tornerà alla normalità con il recupero dei reparti perse e l'apertura di nuovi. Ma su questo eravamo già stati rassicurati e sarebbe stato grave il contrario. Permangono, insomma, secondo Luparella, tutte le perplessità che avevano reso necessaria la convocazione del Consiglio. DPCM Natale, le decisioni del Governo. Natale e Capodanno blindati dentro i confini comunali e dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra regioni. E' questo il cuore del decreto legge di Natale, approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri, per fare scudo ad una possibile terza ondata. 25-26 dicembre e 1 gennaio sarà anche vietato spostarsi dal comune nel quale ci si trova, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Ristoranti chiusi negli hotel a Capodanno, confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 anche a Natale e Capodanno. Bar e ristoranti chiuderanno invece alle ore 18, ma potranno restare aperti per il pranzo di Natale, Santo Stefano, Capodanno e 6 gennaio. Messe natalizie entro le ore 20 e invece potrebbe essere spostato alle ore 21 l'orario di chiusura dei negozi. Chiuse le piste da sci e tra i nodi da sciogliere c'è ancora la questione scuola. Il Premier insiste per riaprire le superiori il 14 dicembre, ma con ogni probabilità le lezioni torneranno in presenza il 7 gennaio. Campania si attende per il cambio colore. La Campania confida in una riduzione delle restrizioni anti-Covid con il passaggio dall'attuale zona rossa a quella arancione o addirittura quella gialla. Si consolida infatti il calo della curva di incremento dei positivi e soprattutto la riduzione dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che nelle degenze Covid ordinarie. Ieri il rapporto tra nuovi casi e tamponi è sceso al 9,3%, sia sotto la media nazionale che invece si attesta intorno al 10%. Passiamo alla situazione Covid in Irpinia e in Campania. 69 sono i casi positivi registrati ieri nella provincia di Avellino. Di questi 19 riguardano persone residenti nel comune capoluogo e di altri 23 comuni irpini. Sono invece 1.842 i positivi rilevati in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.657 asintomatici e 185 sintomatici. Sono 2.183 i pazienti dichiarati guariti, 43 i deceduti. Ariano, l'unità operativa di salute mentale, si sposta a Cardito. Firmato ieri il protocollo di intesa preliminare tra la direttrice generale dell'ASL, Maria Morgante, e il sindaco di Ariano Erpino, Enrico Franza, per lo spostamento del centro di salute mentale. Necessità che nasce da parte del comune di mettere a disposizione i locali del centro sociale a Cardito per l'ampliamento del pronto soccorso del Frangipane, dove appunto si trova al momento il centro di salute mentale. Grotta Minarda ha approvato l'avviso pubblico per i buoni spesa. Per i cittadini e le famiglie che si trovano in difficoltà economica è possibile fare domanda dei buoni spesa utilizzando l'apposito modulo. I buoni sono utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. La domanda va presentata entro le ore 12 del giorno 14 dicembre a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica del comune, che è protocollo chiocciolacomune.grottaminarda.avellino.it oppure a mano presso l'ufficio protocollo del comune in via De Gasperi. Passiamo allo sport. Avellino colpo a Potenza. I biancoverdi tornano alla vittoria. Nel recupero della dodicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, i lupi si sono imposti per 1-0 sul campo del Potenza. Il gol decisivo è stato segnato da Maniero nel secondo tempo. I ragazzi di Mister Braia salgono così a 18 punti, che vale il settimo posto in classifica. Prima di chiudere vi ricordo che alle 15 in diretta sulla pagina Facebook di Cittadiariano torna Rosalba Carchia con Zona Franca. Insieme alle sue ospiti farei il punto sulla scuola ai tempi del Covid tra nuova normalità e incertezze sul futuro. Le ospiti in studio sono Grazia Vallone, docente e consigliere comunale ad Ariano, e Maria Pia Grasso, rappresentante degli studenti dell'Istituto Superiore Ruggero II di Ariano. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordo come sempre la possibilità di seguirci sui social. Buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.